11 incontri letterari, 12 libri ed altrettanti noti autori per la seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival. Torna da sabato 20 a lunedì 24 luglio in Piazza Grande l'iniziativa organizzata da Confesercenti Arezzo con Feltrinelli Point e Claridea con il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Arezzo. Sulla scia dell'anno scorso abbiamo voluto di nuovo impostare il cartellone in una comunicazione di generi e personaggi vari che possano interessare un pubblico variegato. Ci sarà Flavio Caroli che è uno dei più importanti esperti d'arte a livello nazionale ed internazionale degli ultimi decenni di anni d'Italia. Ci sarà Maurizio De Giovanni, uno dei nomi fortissimi della giallistica italiana, non solo in Italia ma nel mondo. Ci sarà Alan Elcan, il popolarissimo giornalista, uno dei patron della famiglia Elcan. Ma poi Enrico Galliano, Carlo Piano, torna a trovarci, Scienzialeone. Quindi sono veramente tantissimi gli ospiti d'onore. Quest'anno è un appuntamento che si arricchisce moltissimo percoltere la parte culturale legata alla presentazione dei libri. Abbiamo anche un mercato molto bello su Piazza Grande dove si potranno vedere tanti prodotti artigianali e agroalimentari del nostro territorio. Quindi sarà un'occasione doppia di svago e di divertimento. Anche perché poi ci saranno degli spettacoli molto belli sulla piazza da giovedì alla domenica e quindi sarà un'occasione per venire nel centro, fare acquisti e potersi divertire. Un doppio appuntamento ogni giorno sulla terrazza del Palazzo di Fraternita con autori di fama nazionale ed internazionale a partire dalle 18 sino alla mezzanotte. A me fa molto piacere che questa organizzazione portata avanti da Confesercenti possa realizzarsi nella terrazza, un luogo dove si svolge la cultura. Uno dei fondamenti istituzionali della Fraternita è la tutela culturale e questa noi la realizziamo con questo programma intenso e molto qualificato.